È un supporto sia ai cittadini che ai mezzi di soccorso, i quali talvolta il loro intervento si rende utile e fondamentale e anche il risparmio di qualche secondo potrebbe essere utile per salvare anche le vite. Molte località alle porte di Arezzo hanno ancora strade senza nome, una situazione che rappresenta una problematica soprattutto per i soccorsi e così il Partito Democratico ha depositato presso l'ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale un atto di indirizzo chiedendo proprio una cartellonistica per le frazioni. È un progetto che segue quello fatto 3-4 anni fa al Bagnoro e si tratta praticamente di integrare la cartellonistica esistente con dei cartelli, con dei numeri, georeferenziati, in modo tale che i mezzi di soccorso possano raggiungere in maniera più veloce e rapida le case delle nostre frazioni. In tante frazioni c'è questa problematica e chiediamo all'amministrazione di partire da qualche frazione in modo tale che nel giro di qualche anno si possa aver completato tutto il giro. Tra l'altro questo progetto è stato approvato, è stato apprezzato quello fatto al Bagnoro anche dal 118 di Arezzo al dottor Mandò all'epoca della realizzazione che anche lui auspicava che fosse diffuso in altre frazioni. Quindi siamo a stimolare l'amministrazione comunale ad andare avanti. Avete parlato già con Casi? Abbiamo qualcosa anticipato a Casi, confidiamo nella sua disponibilità e confidiamo che la Giunta, il Sindaco, metta a disposizione le risorse per fare questo progetto.